decisamente più devastanti di quella legata al coronavirus, speriamo proprio. Basti pensare ai 50 milioni di morti dell'influenza spagnola di solo 100 anni fa, insomma. Ma allora forse non si aveva la consapevolezza globale, la comunicazione e nemmeno le risorse mediche che si hanno oggi. Possiamo dunque dire che la situazione che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo non ha precedenti nella storia? Sì, ma veramente le risorse mediche non ce le abbiamo neanche adesso, mi sembra, da un punto di vista, ma comunque, sì, non ha precedenti proprio in questo senso, non per la letalità della malattia, che per fortuna nostra è estremamente bassa, e neanche per il fatto che per la prima volta una pandemia colpisca non solo tutta l'Europa, tutta l'America, ma tutto il mondo nello stesso momento, perché la spagnola effettivamente aveva fatto qualcosa del genere. Però c'è una differenza cruciale rispetto alla spagnola, non solo il fatto che la letalità della spagnola era maggiore. La differenza veramente cruciale che rende questa pandemia, diciamo, di coronavirus un fatto storico unico, veramente, è che la spagnola ha investito tutto il mondo in un momento in cui il mondo aveva ben altri problemi da affrontare. La spagnola è arrivata quando la prima guerra mondiale non era ancora finita, è arrivata all'indomani della rivoluzione d'ottobre, è arrivata quindi in un mondo che da anni era devastato dalla guerra, che era assolutamente abituato alla morte, anche se ovviamente la sofferenza è sempre la stessa, però l'abitudine comunque nasce, è in un mondo dove il problema appunto di concludere la guerra, di vincerla, di immaginarsi il mondo del dopoguerra, e poi, ancora più importante, la speranza della rivoluzione in alcuni ambienti e il terrore della rivoluzione in molti altri. E beh, tutte queste cose erano molto più importanti dell'epidemia. Di conseguenza, questa invece nostra esperienza, ecco, è la prima volta che un fenomeno del genere, un'aggressione del genere, si presenta in tutto il mondo e più o meno tutti i governi del mondo, sia pure con qualche distinguo, riconoscono che quello è il problema principale con cui devono fare i conti. Ecco, questa cosa non era mai successa. Non era mai successo che tutti i governi del mondo di colpo, nel giro di pochi giorni o poche settimane, dovessero mettere da parte problemi considerati fino al giorno prima vitali, decisivi, come, che ne so, il PIL, per esempio, ecco, per dare invece tutte le risorse ad un'unica cosa, ad un unico problema. E va detto che, come accennava lei da questo punto di vista, non è che poi l'umanità si sia fatta tanto onore dal punto di vista della capacità di reagire tutta insieme. Possiamo quindi dire comunque che un tempo c'era più familiarità anche con la morte, quindi per quanta paura, certamente la spagnola o altre epidemie del passato infondevano, si affrontavano forse anche diversamente le minacce di questo tipo. Ma certamente diciamo questo, quello che sorprende dal punto di vista dello storico, che si immagina come i nostri colleghi del futuro proveranno a analizzare quello che noi abbiamo passato e stiamo passando, ecco, quello che sorprende è proprio, come dire, l'estrema convinzione con cui, almeno nei paesi democratici, ma non solo, i governi hanno effettivamente deciso che un'epidemia che rischiava di uccidere decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone, ma era chiarissimo che non era destinata a ucciderne milioni, perché, appunto, ripeto, siamo di fronte a una malattia che grazie al cielo ha una letalità piuttosto bassa, ecco. Un problema del genere in altri tempi sarebbe stato affrontato diversamente, sarebbe stato affrontato ovviamente con tutta una serie di misure di cui magari parleremo, che sono le stesse che abbiamo messo in atto noi, ma nessuno avrebbe pensato che per evitare un numero di morti del genere qualunque altra considerazione politica, militare, economica, dovesse passare in secondo piano. Noi, certamente, fa onore all'umanità di oggi l'idea che per noi la vita umana sia così sacra che anche per salvarne un numero, intendetemi, non vorrei essere frainteso, ristretto rispetto ai numeri dell'umanità, noi siamo disposti a una simile battuta d'arresto della nostra vita. Dicevo appunto che in passato forse questo tipo di emergenze, di situazioni, sono state affrontate in un modo diverso rispetto a quello ovviamente in cui magari l'abbiamo affrontata noi oggi? Ma sì e no, perché appunto il paradosso è questo, la diversità c'è nel punto del fatto che noi abbiamo, come dicevo, posposto qualunque altra considerazione, anche cose che fino a ieri sembravano assolutamente decisive. Però poi al tempo stesso le misure che noi abbiamo messo in atto sono assolutamente le misure che l'umanità ha imparato ad applicare attraverso secoli di esperienza nell'affrontare le epidemie e sono misure che in realtà sono state inventate dall'umanità abbastanza in fretta e che poi sono sempre quelle, e cioè isolare i malati e quindi anche identificarli molto rapidamente, venire a sapere subito se qualcuno è malato di quella malattia e a quel punto chiuderlo in casa o in lazzaretto e chiudere con lui i suoi familiari, venire a sapere che c'è l'epidemia in un certo luogo e allora circoscrivere quel luogo, quello che noi chiamiamo zona rossa, ecco noi abbiamo inventato il nome, ma queste procedure sono state inventate in buona sostanza dai nostri antenati europei, fra il 300 e il 400, cioè all'indomani della prima grande epidemia di peste, la peste del 1348, la peste del boccaccio, ed è interessante vedere che noi in realtà, come dire, abbiamo applicato tutte queste cose come se ce le avessimo in una specie di memoria di subconscio collettivo, ecco poi immagino che nei cassetti dei ministeri della sanità ci fossero volumi di protocolli, di misure da seguire in caso di epidemia, anche se poi i giornali hanno sempre scritto che quei protocolli nessuno li conosceva, non sono stati applicati, ma insomma di fatto che fossero scritte da qualche parte o che siano venute in mente e basta ai governi, le misure che noi abbiamo applicato sono quelle che in sostanza per secoli avevano permesso ai nostri antenati di sopravvivere alla peste. Tutti noi comunque c'è algum...